Un incendio divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 17 aprile in seguito all'esplosione di una bombola in un alloggio situato in una palazzina in via Villar, angolo via Principe d'Annalta, Torino. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e il 118. Una donna è deceduta. Crollato parzialmente il tetto della palazzina. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento l'incendio e si sono messi al lavoro per la messa in sicurezza della struttura, accertamente in corso sulle cause. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.